18 milioni di euro è già tanta roba perché una parte consistente del bilancio del comune ma perderebbero la possibilità di riacquistare una periferia delle periferie più sicure più vivibili e più belle. I 18 milioni di euro sono quelli provenienti dall'estensione del bando periferie messo in campo dai governi Renzi e Gentiloni e che adesso potrebbero rischiare di non arrivare più nelle casse comunali aretine o dalmeno non prima nel 2020 come contenuto nel decreto mille proroghe. In tutto sono 96 comuni italiani che potrebbero vedere sfumare i finanziamenti per un totale di 1,6 miliardi di soldi pubblici, un provvedimento del governo che ha portato all'audizione convocata a Montecitorio dalle commissioni bilancio e affari costituzionali alla quale ha preso parte anche il sindaco di Arezzo assieme ad una delegazione ANCI guidata dal presidente De Caro. La richiesta all'esecutivo è quella di mantenere i finanziamenti stabiliti per i comuni che rispetteranno la data del 15 settembre per la presentazione dei progetti. Se il governo ha stabilito una data oltre la quale non si può andare, questa data è già stata posposta una volta dall'8 di agosto al 15 di settembre, beh allora prendiamoci le nostre responsabilità. Chi è in grado di produrre la documentazione richiesta entro il 15 di settembre sta dentro e noi siamo tra questi, chi non ce la fa sta fuori. Ho strutturato questo concetto in un emendamento che ho proposto anche, devo dire, al presidente della commissione bilancio onorevole Borghi e l'ho però anche proposto ai parlamentari del territorio aretino e quindi ai due deputati, a Dettore e a Mugnai, che andrà poi discusso e io spero approvato, se dovesse venire approvato Arezzo è salva. Cosa potrebbe succedere invece per Arezzo, non dovesse venire approvato? Io ho fatto questo ragionamento, il governo ha parlato con estrema puntualità non di sospensione del finanziamento ma di dilazione degli effetti del finanziamento al 2020, il che vuol dire che il finanziamento c'è, questo costituisce una garanzia reale, questa può essere portata come garanzia a un istituto bancario al quale io vado a chiedere un'anticipazione dei capitali che mi servono. Se non fosse possibile dovremmo ridiscutere il piano delle opere pubbliche, fare un cambiamento forte nel piano triennale delle opere pubbliche, fare un cambiamento altrettanto forte a livello di bilancio, decidendo quali opere mandare al momento in cui ci saranno i finanziamenti al 2020 e quale tenere nei primi anni, quest'anno e il prossimo anno. Il Comune di Arezzo ha già avviato i lavori contenuti nel progetto e rendi contato le spese. Si tratta di infrastrutture, si tratta di scuole, si tratta di parchi, si tratta di verde, sono dei posti dove si annida la criminalità, sono dei posti dove si vive male, sono dei posti che hanno avuto un decadimento edilizio fortissimo e quindi un decadimento forte del valore immobiliare. Tutto questo può essere fatto rinascere attraverso questo finanziamento dedicato proprio a quelle zone. Mi risulterebbe che non tutti i progetti ammessi al finanziamento hanno questa impostazione, cioè questo ha dato un po' la razio al governo di mettere le mani su questa vicenda. Lo ha fatto però con un colpo di cimitarre. Quello che io chiedo all'onorevole Salvini, al ministro Salvini, perché poi sarà lui a dettare la linea politica, mi immagino, è di usare il bisturi. Lasciasse il buono e togliesse il marcio. Grazie.